Shakira Shalenshaw, sexy per la copertina di GQ Posa sexy di Shakira per la copertina di GQ, dell'edizione del Sudafrica. La reginetta del pop ha realizzato una copertina che farà totalmente impazzire tanti uomini. La cantante infatti indossa un corpetto di pelle nero che mette in evidenza il suo decolté. Ma sulla copertina di GQ, Shakira appare anche con i capelli al vento e con lo sguardo rivolto verso la macchina fotografica. Uno sguardo così sensuale che non lascia indifferenti. Chissà che cosa ne pensa della copertina Gerard Piquet? Ebbene sì, per chi ancora non lo sapesse, solo poche settimane fa la cantante ha reso noto di essere felicemente innamorata di Gerard Piquet, il giocatore del Barcellona. Il nuovo album di Shakira, Sale e il Sol, è ancora in vetta alle classifiche e la cantante, proprio in questi giorni, è impegnata in Europa con alcune tappe del Sale e il Sol Tour 2011. Solo pochi giorni fa, infatti, Shakira si è esibita a Bologna e Milano per le due dati italiane del tour.